Princess Eugenie è stata fotografata in occasione di un importante incontro all'inizio di questa settimana, in vista del battesimo di suo figlio che ha avuto luogo domenica.Venerdi, la principessa Eugenie, 31 anni, è stata riaccolta nella sua vecchia scuola per tenere un discorso agli studenti. Ha frequentato il Marlborough College tra il 2003 e il 2008.La scuola è stata fondata nel 1843 ed è un convitto indipendente per alunni dai 13 ai 18 anni. Eugenie tornò a scuola per tenere un discorso agli studenti della Upper Sixth, sulla schiavitù moderna. Il tema è uno vicino al cuore di sua altezza reale ed è qualcosa contro cui ha lavorato dal 2012. È apparsa al Marlborough College con Giulia De Boingville, con la quale ha cofondato The Antislavery Collective. L'Antislavery Collective è un ente di beneficenza lanciato dal duo di migliori amici nel 2017. Giulia ed Eugenie hanno preparato un discorso da tenere agli studenti sul concetto della loro fondazione. Nella loro presentazione digitale, le donne descrivono l'iniziativa come un collettivo indipendente la cui missione è riunire i responsabili del cambiamento per aumentare la consapevolezza sulla schiavitù moderna come epidemia globale. Notano sul loro sito web che ci sono circa 40,3 milioni di persone nella schiavitù moderna in tutto il mondo e che mirano a sensibilizzare e fare la differenza. Le donne sono state viste posare per le fotografie con gli studenti del college. Hanno anche incoraggiato gli studenti a partecipare al lavoro dell'organizzazione. Sua altezza reale era già tornata alla scuola nel 2018, per aprire agli alunni il Memorial Hall, recentemente ristrutturato. All'epoca, il collegio celebrava anche il suo 175 gradi anniversario e il 50 gradi anno di coeducazione. Durante la sua visita del 2018, ha visitato la scuola d'arte e ha visitato la sua vecchia pensione. Ha poi riaperto il Memorial Hall e svelato una targa commemorativa prima di parlare agli alunni e al personale dei suoi ricordi del Marlborough College. Arriva mentre il figlio di Eugenie e Jack Brooks Bank, August, è stato battezzato domenica in una cerimonia congiunta.